Oggi in Consiglio regionale ho chiesto più volte alla maggioranza, al Governatore Marsilio, ai suoi assessori, quando venivano deliberate tutte le procedure necessarie per erogare un milione di euro che questo Consiglio regionale ha approvato con la legge 10 e pubblicata il 6 giugno. Nella legge veniva stabilito che dopo 15 giorni dall'entrata in vigore la Giunta regionale doveva stabilire le modalità di erogazione di questi fondi. Sono passati quasi due mesi da quel 6 giugno e purtroppo ad oggi nulla sanno i comuni, nulla sanno tutti i titolari di chalet che purtroppo hanno subito e stanno subendo l'erosione. Tante balle, tante vane promesse. Avevano promesso 7 milioni di euro per il contrasto all'erosione, nulla è stato fatto per il 2020 e sappiamo tutte le necessità dei nostri concessionari di spiaggia con l'emergenza virus e quindi con i distanziamenti. Avevamo insistito per inserire un milione di euro per indennizzare i tanti operatori del mare offese dalle mereggiate del novembre 2019 ma che si sono ripetute anche nelle ultime settimane e nelle ultime ore. Stiamo attendendo la delibera di giunta regionale. Noi invitiamo il Presidente Marsili a fare il più presto possibile poiché gli operatori non ce la fanno più e insieme a loro i tanti cittadini, le imprese e i tanti operatori di questo settore.